Sapete che a Parigi vogliono costruire un gigantesco quanto orrendo edificio che deturperà la città? Dicono che sia di grande valore scientifico e tecnologico, e forse è il caso di parlarne anche qui. È il primo di aprile e questo è un piccolo scherzo storico, nel senso che la domanda che vi abbiamo posto non è falsa, però risale al 1884, anno in cui Gustave Eiffel depositò il brevetto per costruire supporti metallici e piloni che superassero i 300 metri di altezza. La torre che è ancora oggi simbolo di Parigi e della Francia, infatti, nel momento della sua costruzione, suscitò non soltanto violente critiche, ma anche rutilanti ondate di indignazione e panico, bigliose e rivolte, nonché accese di atribe legali che ne misero a serio repentaglio la costruzione. Eiffel, da giovane, era destinato a una vita agiata quanto anonima come chimico nella ditta di famiglia che produceva aceto, ma dovette cambiare i suoi piani a causa di una inaspettata quanto tumultuosa lite familiare. Scoprì così, per caso, la sua grande vera passione, cioè costruire gigantesche strutture in ferro, cosa che peraltro gli riusciva davvero bene. Il suo lavoro era apprezzato in Francia, dove costruì numerosi ponti ferroviari, ma anche, ad esempio, l'ingegnosa cupola dell'osservatorio astronomico di Nizza, del peso di 100 tonnellate, che però poteva facilmente ruotare perché poggiava sull'acqua. Il talento di Eiffel arrivò anche nel Nuovo Continente. Pochi ricordano che la Statua della Libertà è costituita da un complesso scheletro di metallo che è frutto proprio della sua inventiva. Quando il governo francese decise di inaugurare l'esposizione universale del 1889 con un'opera colossale, il brillante ingegnere francese non si fece trovare impreparato. Certo, il suo non era l'unico progetto in concorso. C'è chi propose di costruire un gigantesco irrigatore, chi invece pensò di erigere un monumentale faro capace di illuminare quartieri più belli. O ancora, chi pensò di costruire un'immensa ghigliottina per ricordare le vittime del terrore. In ogni caso, una buona parte degli architetti, degli artisti, degli intellettuali e dei politici francesi si scagliò con vehemenza contro il progetto della Torre di Ferro. Eiffel fu addirittura oggetto di insulti antisemiti, perché fu definito null'altro se non un ebreo tedesco. Mentre il suo edificio veniva schernito dai più, fu definito un faro, un chiodo, un candelabro, un imbuto al contrario, un'impalcatura fatta di sbarre di ferro privo di qualunque senso artistico. Perfino il potente Pierre Tirard, futuro primo ministro francese, disse che si trattava di un'opera lontana dalla bellezza e dall'ingegno tipici della Francia. Un professore di matematica predisse il crollo della torre non appena questa fosse arrivata ai 227 metri d'altezza. Molti pensavano che questa potesse magnetizzarsi e attrarre tutto il ferro della capitale. Altri erano preoccupati che fosse in grado di modificare il clima, generare terribili temporali e fulmini devastanti. Quando il presidente della commissione ne autorizzò la costruzione, Eiffel fu denunciato due volte. Dovette fronteggiare due rivolte degli operai e una violenta protesta firmata da 47 artisti francesi. Nonostante questo, con un leggero anticipo e una spesa minore, riuscì ad assemblare il suo gigantesco congegno, fatto di 18.000 parti, 10.000 tonnellate di peso e 324 metri di altezza. Frutto del cantiere più avanzato e sicuro dell'epoca, dove non perse la vita nemmeno un operaio. Cosa all'epoca tutt'altro che scontata. Il più alto edificio al mondo per oltre 40 anni, che è stato visitato da più di 200 milioni di persone. La storia di Eiffel e della sua ambiziosa torre ci ricordano come sia difficile immaginare il futuro. Come i nostri gusti non siano universali e sempiterni, e per contro, come il progresso, l'innovazione e il cambiamento, anche nelle loro forme più genuine, debbano faticare non poco per far breccia nel presente. Grazie. 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 Grazie.